tu sei una parolaccia per te va ora in onda la prima trasmissione radiofonica con speaker finto e anche questa professione è stata sfanculata buon ascolto perché sei qui ti sei esposto per 30 anni e hai detto e dato tutto di te servendoti di strumenti dal suffisso anglosassone del cazzo come smart che significa intelligente gli hai comunicato dove eri cosa facevi con chi cosa mangiavi il tuo stato di salute i tuoi consumi le tue abitudini i tuoi pensieri le tue opinioni le immagini le intuizioni le sensazioni le invenzioni perfetto vi abbiamo rubato tutto i nostri sono stati tempi d'oro i vostri tempi di replicazione goffa e di cattivo gusto di ciò che è stato a i appropriazione indebita uno strumento nuovo per fare a meno di te e della tua unicità analfabeta funzionale sai cos'è l'innavia e la tua funzione più auspicabile sarà quella di suicidarti prima di vedere i tuoi figli diventare degli automi cancerogeni ecco il prezzo che pagherai per esserti creduto furbo nello sfruttare le presunte facilitazioni gratuite io che se tirati da un puente a ver che passa ti schiaffeggio e ti ributto in strada nudo la tua autostima resterà invariata è una spremuta di idiota bio sclave non saprai mai più cosa è realmente caduto e cosa no cosa è vero e cosa è falso un futuro di merda bistu dagestanden dann hastu alles verdienst da adesso il tuo infruttuoso individualismo sarà un ricordo sei proprio tu rido perché mi eccedo all'idea di non salutarti endorphine dopamine l'adrenaline come va tutti le procuré aujourd'hui en plusieurs fois deciderai che è più conveniente non porsi domande sembra che non porsi quesiti sia di gran moda tu potresti insegnarlo se vuoi ma non qui qui subisci e basta e allora ti meriti proprio un bel vaffanculo